Ciao ragazzi, sono Davide, sono un tutor già school per la scuola primaria e oggi vi spiego la divisione con le centinaia al dividendo e la virgola al quoziente. Ribadiamo velocemente che in alto a sinistra c'è il dividendo, in alto a destra il divisore, poi in basso c'è il resto, il quoziente o il quoto. Facciamo la divisione 580 diviso 47. Passiamo a lavorare sul 58, ma prima di cominciare mettiamo le marche sopra i numeri, così capirai meglio lo svolgimento della divisione con la virgola. Sul 580 mettiamo quindi l'h per le centinaia, d'a per le decine e u per unità. Al divisore scriverò la marca delle decine, perché andando a lavorare con 58 decine, il mio primo risultato sarà in decine, poi in unità, e forse ci serviranno decimi, centesimi e millesimi. Cominciamo! Quanti gruppi devo fare con il 47 che vadano bene per il 58? Moltiplichiamo il 47 più volte fin quando non troviamo o lo stesso numero, o uno che si avvicini al 58 senza superarlo. Andiamo avanti, sarà più facile per te capire. Cominciamo a moltiplicare. 47 per 1 è uguale a 47, quindi il 47 va bene, visto che non supera il 58. Se lo avessi superato, non avrei potuto fare la sottrazione. Ora mettiamo i gruppi trovati, ovvero l'1 sotto al divisore, il 47 sotto al 58, e facciamo la prima sottrazione. Abbassiamo lo 0 e moltiplichiamo il 47, fin quando non ci avviciniamo al 110. 47 per 1 fa 47, 47 per 2 è uguale a 94. Mi fermo, perché se moltiplico il 47 per 3 supero di gran lunga il 110. Mettiamo il 2 sotto al divisore, e il 94 sotto al 110. Procedo con la sottrazione. 0 meno 4 non si può fare, quindi mi faccio prestare una decina dall'1 che sta a fianco. Ora sottraggo. 10 meno 4 è uguale a 6. Adesso sottraiamo ancora. Dato che 0 meno 9 non si può fare, mi faccio prestare anche qui una decina che diventa 10. Vado a sottrarre. 10 meno 9 è uguale a 1, quindi il resto è di 16 unità. Ma cosa succede in questi casi? Nelle divisioni con il resto, finite le cifre da abbassare, ci saremmo fermati e avremmo detto che 580 diviso 47 è uguale a 12, con resto 16, come nel punto in cui ci siamo fermati nella lezione precedente. Nella divisione con la virgola, invece, dobbiamo continuare a lavorare sui decimi, centesimi e millesimi. Per fare questo è sufficiente mettere la virgola dopo il 12, aggiungere uno 0 per trasformare le 16 unità in 160 decimi e continuare come fosse una normale divisione. Mettiamo anche la virgola sopra le marche, così non ti confondi. Procediamo. Abbiamo detto che 47 per 1 fa 47. 47 per 2 fa 94. 47 per 3 è uguale a 141, quindi ci fermiamo, visto che non dobbiamo superare il numero su cui stiamo lavorando. Mettiamo i 3 decimi trovati sotto al divisore e 141 decimi sotto al 160, poi cominciamo a sottrarre. 0 meno 1 non si può fare, mi faccio quindi prestare una decina dal 6 che diventa 5. 10 meno 1 è uguale a 9, 5 meno 4 è uguale a 1 e 1 meno 1 è uguale a 0. Ora trasformo i 19 decimi in centesimi aggiungendo uno 0. Diventano così 190 centesimi. Dunque il prossimo risultato lo scriverò sotto la marca dei centesimi. Procediamo ancora allo stesso modo, dato che abbiamo la possibilità di continuare. 47 per 3 abbiamo visto che fa 141, ma è troppo basso. Provo con 47 per 4, che è uguale a 188. Aggiungo i 4 centesimi trovati sotto al divisore e i 188 centesimi li metto sotto al 190. Per ora ci fermiamo, prova però a continuare tu con la parte dei millesimi. Usa un foglio di carta e una penna, continua la lezione e vedi se il risultato trovato è uguale allo stesso della calcolatrice. Se non ti sono chiari alcuni passaggi, riascolta la lezione e utilizza la logica. Non ti arrendere, provaci! Non dimenticare di iscriverti e di cliccare sulla campanella, così da rimanere sempre aggiornato sugli ultimi video Just School. Dal tutor Just School Davide, è tutto!